prendere o perdere ascolta la conversazione e poi fai gli esercizi sbrigati Sonia altrimenti arrivi tardi in stazione e perdi di nuovo il treno sì mamma arrivo sono pronta devo prendere il quaderno dei compiti che ho lasciato in salotto dai forza ti ho preparato una bella colazione perché oggi torni tardi devi andare dal dentista te lo ricordi? ah già che bello mi hai preparato un bel toast e una spremuta d'arancia grazie dai forza ti ho preparato anche la merenda come al solito non dimenticarla come hai fatto l'altro giorno quando? cosa non ho preso l'altro giorno? la merenda che ti avevo preparato mercoledì la mattina fai sempre tanta fatica a svegliarti dimentichi sempre qualcosa è vero tu mi parli ma non sono connessa prendo la tua rivista al tabacchino della stazione? si grazie prendi anche il giornale ecco ti metto i soldi sulla tavola a stasera buona giornata grazie mamma e buona giornata anche a te a stasera la mamma arriva a casa alle 18 Sonia è in camera al buio silenziosa e triste Sonia che c'è? come stai? perché sei al buio e in silenzio? di solito ascolti musica a tutto volume mamma oggi è andato tutto storto non ho preso il treno non ho preso il giornale né la rivista perché? hai perso il treno? non eri in ritardo ti ho chiamata in tempo vero ma non ho preso l'abbonamento e non ho preso i soldi che mi hai lasciato e così sono tornata a casa che confusione figlia mia tra perdere e prendere prendere è un verbo del secondo gruppo io prendo tu prendi lui lei prende noi prendiamo voi prendete loro prendono perdere è un verbo del secondo gruppo io perdo tu perdi lui lei perde noi perdiamo voi perdete loro perdono adesso vediamo il passato di prendere io ho preso tu hai preso lui lei ha preso noi abbiamo preso voi avete preso loro hanno preso ecco il passato prossimo di perdere io ho perso tu hai perso lui lei ha perso noi abbiamo perso voi avete perso loro hanno perso ciao grazie ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti